La Ford Focus ST 2019 monta ora un 2.3 EcoBoost da 280 CV e 420 Nm di coppia, i 30 CV in più rispetto all'edizione precedente la portano ora però oltre il muro del Superbollo. Grazie al nuovo propulsore, anche le prestazioni sono notevolmente migliorate. Per la versione con il cambio automatico a 7 rapporti, lo 0100 viene bruciato in meno di 6 secondi. Disponibile però anche il cambio manuale a 6 rapporti. Per la prima volta la Focus ST monta un selettore di modalità di guida per adattare al meglio la vettura alle proprie esigenze. Le due selezioni più sportive sono Sport e Pista. Quest'ultima disponibile esclusivamente con il Performance Pack, che porta in dotazione le sospensioni adattive a monitoraggio continuo. La ST ha anche però una variante con il motore diesel più potente mai montato su una Focus, il nuovo 2000 EcoBlue da 190 CV. Dotare una vettura sportiva con un propulsore diesel non è sicuramente una scelta comune tra i costruttori, ma consentirà alla nuova Focus ST di attirare un numero sempre maggiore di utenti. Disponibile, come da tradizione, anche nella versione wagon, che getta le basi per la più attesa dagli appassionati, la futura Ford Focus RS. La principale rivale di Megane RS, Golf GT e Hyundai i30N è tornata più agguerrita che mai. Grazie a tutti.